Nella classifica stilata dal sole 24 ore sulla qualità della vita 2022, Brindisi scivola al 92esimo posto, in costante perdita di posizioni dal 2019 ad oggi. Ma non mancano i dati incoraggianti, sono quelli provenienti dal settore affari e lavoro, dove la provincia di Brindisi si colloca al 38esimo posto. Undicesima posizione invece per il numero di nuove aziende iscritte, ogni 100 imprese registrate, dato accompagnato dal 17esimo posto nelle cessazioni, dalla 27esima posizione nella percentuale di imprenditorialità giovanile e dal 34esimo posto nella partecipazione alla formazione continua. Soddisfazione espressa da parte del presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lipporis. Purtroppo la città è un po' ferma, la parte politico-istituzionale forse burocratica, forse non ha la stessa velocità delle imprese. Ci sono imprese che vogliono investire, ci sono imprese italiane, molte che vogliono investire, le stesse imprese del territorio che vogliono continuare a investire sullo stesso territorio, però hanno difficoltà. Ma noi penso che dobbiamo anche applaudire ai nostri piccoli e medi imprenditori di questo territorio che hanno dimostrato di avere una grande resilienza. Ricordiamoci che veniamo da una crisi economica, veniamo da due anni di Covid, veniamo da una guerra in corso e da una crisi energetica purtroppo importante. Nonostante ciò le imprese si rimboccano le mani che gli imprenditori e gli imprenditrici di questo territorio si rimboccano le mani che vogliono fare, vogliono continuare a crescere, vogliono creare occupazione, vogliono ingrandire le loro imprese, le vogliono ancora di più rendere più forti su anche contesti internazionali.